sentiero 14 di direi quello più impegnativo se non hanno cambiato ready ready hanno cambiato hanno abbattuto tutto una pista da bigliardo ormai bello si sono un po' 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 Dunga Dunga Sì, sì, sì. Sì, sì. All'ombra dell'ultimo sole sarà subito. Il video su YouTube di darcelo già, passiamo di qua. Wuhuu! Anch'io, anch'io. Ho detto, non l'ho mai fatta. All'ombra dell'ultimo sole sarà subito. All'ombra dell'ultimo sole sarà subito. All'ombra dell'ultimo sole sarà subito.